Non si è realizzato il sogno della gruppo Consoli centrale McDonald's. La squadra bresciana si è infatti fermata ad un passo dal traguardo promozione in quella che è stata la prima finale della ventenale storia di Atlantide. Il team di coach Roberto Zambonardi, reduce da due sconfitte, in gara 3 ha ceduto nuovamente a Taranto in 4-7, lottando fino alla fine e chiudendo con onore una stagione che, nonostante il target Superlega mancato, resta comunque da incorniciare. 25-15, 25-20, 21-25 e 25-22, i risultati dei parziali per il 3-1 che ha incornato i pugliesi, dominatori incontrastati del campionato di Serie A2 2020-2021. I tucani escono tuttavia a testa alta, pagati da uno strepitoso finale di stagione che ha saputo attirare i riflettori dell'intera provincia e, perché no, dello stivale sul volley innostrano. Ne testimonianza all'invito del sindaco di Brescia Emilio Del Bono, che a Palazzo Loggia ha voluto incontrare di persona i protagonisti della cavalcata bianco-blu. Ovvio che tutto questo fa piacere, è la conferma di un percorso importante che abbiamo fatto, di crescita, di risultati sempre più importanti, è la conferma che abbiamo fatto una grande stagione. Arrivare fino a dove siamo arrivati non ce lo saremmo aspettato noi in primis e credo anche tutto il movimento. Quindi da questo punto di vista dobbiamo essere orgogliosi. È ovvio che da agonista, che è la benzina che ci manda avanti a noi sportivi, arrivare lì a due passi da risultati storici, come la finale di Coppa Italia dell'anno scorso e come questa finale promozione, è ovvio che dispiace, soprattutto quando ti accorgi che sei lì e che manca veramente poco. Però ecco, dobbiamo essere, come ho detto prima, orgogliosi e fieri di quello che abbiamo fatto e dimostrato, consapevoli del percorso di crescita che stiamo facendo, la strada è quella giusta e con l'aiuto di tutti si può diventare ancora più grandi, quindi dobbiamo essere strafelici.